Ragazzi ma si può veramente comprare una BMX di colore diverso? Beh tutto quello che dovrete fare è andare sul vostro telefono Andare su viaggi e trasporti E andare dove ci stanno le BMX su pedal and metal Ok Poi andate sulla BMX che costa 500 dollari E una volta entrati in questa pagina Voi che cosa fate una volta entrati in questa pagina? Andate a cliccare sull'icona della home Esattamente lì dove sto facendo vedere Ok E ritornate su viaggi e trasporti E poi andate in legendary Ecco Legendary E andate dove sta la macchina Quella lì la Z-Type se non sbaglio Sì eccola qui Quella là da 10 milioni E basta che cercate un colore C'è un colore che vi piace Tipo io ho scelto il giallo Poi andate sull'icona della cronologia E andate dove avete cercato la BMX Eccola qui E poi fate ordina Comunque se adesso a me spunta non vendute Perché non ci avevo posto nel garage Ma poi ci ho riprovato Ho tolto una macchina E adesso dovrebbe andare Poi mi sono diretto verso il mio garage Ho aperto E ho trovato la BMX del colore che avevo scelto Eccola lì la BMX gialla Per oggi è tutto Ciao 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 Ciao